buona terra buonasera a tutti eccomi da voi anche influenzato oggi mi merito proprio l'iscrizione al canale influenzato con febbre ma come resistere a pubblicare tanto più che su una casa questa carta quel modello europeo che conferma e rincara l'arrivo di una discesa artico continentale molto fredda non eccezionale per carità ancora ancora si sta definendo però però viene confermata adesso ve lo mostrerò l'ondulazione del l'anticidione della zorra che punta verso la scandinavia e la sua e la risposta che si ha è questa il freddo vedete le le isotermi di meno nove meno dieci dall'altra parte dell'adriatico eh a mille cinquecento metri questo è freddo vero in corrispondenza di precipitazioni consistenti potrebbe nevicare anche sulle coste del medio adriatico per dire eh infatti lo ho scritto eh non è male non è male perché durerà tanto ci sarà un nucleo gelido anche in quota quindi ottimi aggiornamenti eh eh un pochino in diciamo meno positivo per gli amici del nord ovest parte del nord ma questo è l'andazzo e quello che voglio dire non è un'eccezione il fatto che sul medio adriatico al sud d'inverno arrivino fatte gelide ma è anche abbastanza normale lo spesso si sente dire sono invertite le stagioni ma il freddo dov'è? È nei Balcani e nella Russia e le regioni che sono più esposte a questo tipo di correnti sono quelle quindi al nord le nevicate si hanno generalmente per sovrascorrimento di aria più calda dopo che è sopraggiunto il freddo ne riparleremo ma è così allora vi faccio vedere eccola qua guardate continua da dieci giorni non va via anzi adesso è stata rialimentata una depressione fredda eh che era eredità del grande peggioramento dieci giorni fa ma adesso è stata rialimentata quindi altri rovesci altre nevicate anche a bassa quota al centro sud vedete l'adriatico com'è esposto vi faccio subito vedere la grande emissione del modello europeo guardate come è rialimentato il verde vedete come è unito verso nord continua questo il freddo il freddo poi c'è una fase di miglioramento eh beh infatti tutti e si sono sbizzarrite dire ecco che torna l'alta pressione tutti eh per far notizia ma non ci sono ancora le premesse ci sono poi delle correnti eh mediamente fredde in un contesto comunque asciutto e poi guardate verso la prova inizio febbraio eh quindi fa quattro cinque giorni arriva anche oggi guardate questa ondulazione molto spiccata è un nucleo gelido che arriva sulle regioni centro meridionali perché è vero che si dovrebbe creare una ionio l'ona bassa pressione dello ionio ma il nucleo in quota arriva più a nord quindi il coinvolgimento non sarà proprio del soltanto del sud ma arriverà anche il medio alto adriatico forse guardate guardate come persiste queste sono in dodici ore in dodici ore e poi se ne va proprio solo a fine emissione e nemmeno tanto perché poi resta ancora l'afflusso freddo ve lo faccio vedere da meteo a cielo guardate questa è queste sono le temperature guardate come sono fredde ancora eh a 1500 metri guardate ancora restano fredde freddo freddo e poi questa pausa le regioni solo e regioni orientali occidentali un po' di fern che arriva a metà emissione questo qui siamo proprio a fine mese praticamente ma poi da già da due eccolo qua guardate la nuova colata gelida che a questo punto sembra abbastanza probabile guardate il blu come si colora meno dieci addirittura la meno dieci che in appennino a fine emissione e insomma questa è una bella vi faccio vedere anche in quota perché il geopotenziale a 500 ectomascara che interessante vedete adesso c'è una bassa pressione ancora vedete poi migliora migliora proprio gli ultimi giorni giorni della merla ma poi torna proprio per la candelora quindi questo è ben augurante torna un altro nucleo guardate come arriva questo genere guardate le iso e le isobare come sono strette quindi venti molto forti secondo questa previsione e poi guardate il nucleo centro sud con freddo vero perché ci sono c'è anche il nucleo genere in quota oltre che al suolo con venti da da grecare ecco qua poi si allontana insomma ah vi faccio anche vedere poi guardate questa è la previsione della la neve al suolo secondo il modello europeo guardate tutto l'adriatico dall'emilia romagna fino al sud guardate la calabria la sicilia tutte le regioni centrali ma poi le alpiche c'è già e insomma che cosa sta accadendo arriva un freddo e sembra confermato anche le emissioni di ensemble le le emissioni di prova confermano tutto ciò quindi attenzione due tre quattro febbraio arriva una bella quadratagenda più più forte di quella che abbiamo visto finora ma tutto in evoluzione perché il il vortice polare è sbilanciato verso il lobo canadese anzi ve lo faccio proprio vedere prima di chiudere perché è molto interessante ricondivido lo schermo voglio farvi vedere solo eccolo qua questo questo guardate le le questa è l'emisferica cioè tutto metà del globo visto dall'alto guardate come sembra raccolta il porciopale guardate poi l'ondulazione eccola qua vedete come arriva proprio un treno gelido che è collegato direttamente all'artico russo e non è roba da poco e lascia un un lobo un nucleo gelido che poi c'è un rafforzamento nel lobo canadese che tende a spanciare ma tutto da vedere tutto da vedere e insomma l'inverno è apertissimo e febbraio esordirà nel migliore dei modi intanto sta già ancora nevegando e iscrivetevi al canale ve l'ho già detto me lo merito proprio oggi anche palato e cliccate sulla campanellina per avere notifiche così arrivano a qualsiasi ora come adesso le notifiche e poi se volete il bonus grazie in basso a destra per contribuire al canale e premiare l'impegno che vi assicure tanto perché non avrei cioè c'è avuto un po di sforzo per mettermi al computer ma era troppo troppo interessante e bello poter commentare questo bellissimo bellissima lezione perché io faccio tutto ciò per entusiasmo per passione quindi solo per questo e mi piace e grazie 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 ciao ciao ciao